Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Rubano ostie consacrate nel convento dei Cappuccini a Fossombrone, indagano i carabinieri Centinaia di persone per l'ultimo saluto a Nicola Scarloni, all'uscita, rombo di motori e la sua moto Un corpo senza vita ritrovato nella spiaggia del Cesano a Senigallia da un passante e si tratta di un 68enne La magia del Natale più accende la città di Fanno per una piazza gremita assistito al grande spettacolo per l'inaugurazione delle festività natalizie Stasera dopo il telegiornale torna primo cittadino con il sindaco di Terre Rovereschi Antonio Sebastianetti Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Motori Rombanti voleva e Motori Rombanti ha avuto al suo funerale Nicola Scarloni Carlez per gli amici Questo pomeriggio alle 15 il feretro del ventenne che ha perso la vita in un tragico incidente stradale Al trebio della sconfitta in zona Santa Veneranda a bordo della sua auto è arrivato sul sagrato della chiesa di Santo Stefano A Candelara scortato da Rombanti Moto compresa la sua che poi è entrata in chiesa assieme al suo casco Ed è stata posizionata davanti al feretro Moto che Nichi non ha fatto in tempo a riparare ma che è stata riparata dai suoi amici di moto Una funzione celebrata da un commosso è toccato Don Giampiero Cernuschi assieme a Don Michele Rossini di Cattabrighe E Don Alberto Levrini di Tombaccia che sono accorsi assieme a lui nella tragica sera sul luogo dell'incidente assieme alla famiglia di Nicola Lo stesso Don Giampiero che lo ha visto crescere in quella casa a pochi passi dalla chiesa Che nel momento dell'estremo saluto non ha saputo trattenere la commozione a cui quel ciao Nichi gli si è spezzato in gola dal lambone della chiesa Una chiesa strabordante di ragazzi, amici di comitiva e di contrada del porto con la quale gareggiava al palio dei Braceri La cui maglia era lì assieme alla sua moto o semplici conoscenti travolti dalla sua breve conoscenza, dal suo sorriso Come lo stesso Don, come amava chiamarlo Nicolas, ha ricordato Il tuo sorriso, ha detto il padre, assieme a quello della tua amata sorellina Daphne è il più bel dono d'amore di Gesù Una chiesa che non ha poi potuto contenere tutti coloro che oggi hanno voluto anche semplicemente salutarlo per l'ultima volta Dopo che in una surreale sinfonia le campane a morto dall'uscita della chiesa Si sono mischiate al rombo di tante moto che hanno sgasato ripetutamente assieme a potenti auto Fino all'ingresso del piccolo cimitero di Candelara dove è stata poi tumulata la salva Al termine della funzione religiosa, con la forza d'animo che l'ha accompagnata sino ad oggi Michela, la mamma coraggio di Nichi, ha voluto ringraziare tutti per l'affetto e l'amore che ha ricevuto in questi giorni Nichi, ha detto, è stato capace di fare tutto questo Grazie per il vostro amore, oggi provo dentro di me una serenità d'animo che non ho mai avuto Non so spiegarvi perché e sono sicura che Nichi è felice e dovete l'esserlo anche voi Lui lo voleva E poi, ha continuato mamma Michela, rivolgendosi ai suoi amici di motori Ogni volta che salite in macchina o in moto, portatelo con voi Lui vi proteggerà Chi lo ama da oggi ha un angelo in più Furto sacrilego nel convento dei Cappuccini a Fossombrone Un gravissimo gesto, compiuto sabato intorno all'ora di pranzo E sconvolta e frastornata la comunità dei frati Cappuccini di Fossombrone Per il grave gesto profanatorio Accaduto sabato pomeriggio Durante l'ora di pranzo, poco dopo le 13.30, i gnoti si sono introdotti nella chiesa Profanando il tabernacolo e rubando il contenuto sacro al suo interno Dopo aver trovato in sacristia la chiave del tabernacolo lineo del 600 interamente realizzato e riccamente intarsiato dai monaci E' stato portato via un calice e le pissi di contenenti le ostie consacrate per la funzione del pomeriggio assieme all'ostia madre Un gesto di estrema gravità dal punto di vista religioso Che ha lasciato costernati i frati Che sono subito corsi a denunciare l'accaduto alla stazione dei carabinieri di Fossombrone Che ora stanno indagando Sempre nella stessa giornata nella parrocchia di Fratte Rosa Si è consumato un episodio simile dove sono stati portati via due vasi sacri Da valutare a questo punto se ad opera delle medesime persone o se di altri Sta di fatto che l'intera comunità religiosa è in allarme per questi episodi Che sembrano intensificarsi durante i periodi di festività religiose Come la Pasqua e il Santo Natale La comunità dei frati ha fatto recitare nella giornata di ieri a tutti la coroncina della misericordia in riparazione E per venerdì hanno programmato una giornata di digiuno Ma la buona novella è arrivata nel corso della giornata odierna Perché una donna del posto ha ritrovato ai margini della strada Un sacchetto di plastica con una trentina di ostie, le pissidi e l'ostia madre spezzata All'appello manca solo il calice Forse i ladri, pensando fosse di valore ed antico, se lo sono tenuti Ma in realtà è di modesto valore, se non quello affettivo Essendo un regalo fatto alla comunità dei frati abbastanza di recente Il corpo senza vita di un uomo di 68 anni di Senigallia È stato ritrovato questa mattina sulla spiaggia del Cesano Nella zona nord della città Il cadavere è stato scoperto da un passante che ha dato l'allarme L'uomo, secondo la testimonianza di un residente della zona, è stato visto cadere in acqua Non è chiaro se sia stato un incidente oppure un atto volontario Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la guardia costiera e i carabinieri Per identificare la vittima che aveva con sé anche i documenti Poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo, il personale dell'ufficio locale marittimo Ha rinvenuto anche l'auto del 68enne rimasta aperta All'interno nessun biglietto o nessuna traccia che potesse far propendere per l'ipotesi del suicidio Otto giorni fa il cadavere di un altro uomo senza apparenti segni di violenza Era stato ritrovato sulla battigia vicino al lungomare Marconi a Senigallia Un malore improvviso ha stroncato all'età di 46 anni Emanuele Mazzini Un uomo molto conosciuto nel quartiere di San Lazzaro a Fano Dove per anni ha gestito un bar insieme ai genitori I funerali verranno celebrati domani mattina alle ore 9 nella chiesa di San Sebastiano a Bellocchi Al termine del rito funebre la salma verrà tumulata nel cimitero di Rosciano di Fano Cambiamo pagina, come per la terra e anche per il mare si deve rispettare la stagionalità Il ritmo delle stagioni e questo permetterebbe di acquistare bene e soprattutto a prezzi contenuti Conoscere le stagioni del mare è altrettanto importante come conoscere la stagione della terra Sapere ciò che il mare ci dà e poterlo acquistare nel giusto periodo può innescare un circolo virtuoso Fonte di sviluppo economico a 360 gradi per un territorio Soprattutto in zone di mare, in un'economia ittica ben radicata come a Fano, questo è maggiormente vero In un'epoca di totale globalizzazione dei consumi in cui si trova di tutto in tutti i mesi dell'anno Si ha anche un appiattimento però delle economie di settore, soprattutto locali, che invece seguono la stagionalità Sul fronte del pescato sono tanti gli attori che recitano una parte importante nella rappresentazione di un territorio Perché oltre al marinaio che è il primo anello della catena Tra il mondo della pesca e il consumatore finale che è l'ultimo anello invece Ci sono molti altri protagonisti C'è chi promuove il prodotto, c'è chi lo studia, chi lo trasforma e chi poi crea una cultura gastronomica Ci sono i cultori della tradizione e ci sono anche gli istituti di formazione come le scuole alberghiere Tutti insieme questi comprimari devono spingere all'unisono per sviluppare un'economia di filiera corta e stagionale Che consenta a chi opera di fare reddito e al consumatore di avere qualità controllata al giusto prezzo Di questo si è parlato in un convegno organizzato dall'organizzazione produttori pesca di Fano, Marotta e Senigallia In cui ci si è focalizzati proprio su una specie ittica stagionale di questo periodo La triglia o il ruchol in dialetto fanese È un pesce che ovviamente ha la stagionalità In questo caso ha anche la caratteristica di essere veramente diversa se pescata in Adriatico o pescata nel Tirreno Nel senso che ciò che trova da mangiare nei nostri fondali sabbiosi o nei fondali del Tirreno Che sono più rocciosi rendono le carni ovviamente con delle sapidità e dei sapori molto diversi Gastronomia è anche tradizioni e cultura territoriale Come ben sanno gli esponenti dell'Accademia della Cucina Italiana Paladini e custodi della cucina tradizionale e regionale È il cosiddetto pesce povero Povero non vuol dire niente, vuol dire solo che ha un costo abbordabile Ma non che sia meno ricco di proprietà nutritive Anzi il contrario come in altri pesci poveri Ma la triglia tra l'altro bene hanno fatto organizzare proprio in questo periodo Che è il periodo più ricco per la triglia Che comincia a venire più buono e anche a più buon mercato Conosciuta da molti per essere una componente più o meno stabile delle zuppe di pesce La triglia e le sue carni pregiate hanno però infinite possibilità di utilizzo e trasformazione Abbiamo la possibilità di cucinarli in svariatissimi modi Questo la preparazione incide anche sul periodo Per dire a me amo tantissimo la triglia nel periodo invernale alla griglia Perché è grassa, una carne grassa, saporita Per cui è eccezionale Ma in altri periodi dove magari c'è una carne magra Perché no buttarla nel bodetto O una preparazione tipo tiglia alla Livornese per rendere l'idea È cruda, marinata, è fantastica Altre preparazioni Se viaggiamo nei dintorni di Ancona potremo trovare una preparazione con il prosciutto Beh insomma gli spunti ve li abbiamo dati Adesso invece andiamo a vedere quello che è successo ieri in una piazza a 20 settembre a Fano gremitissima di gente Probabilmente mai vista nel giorno in cui si accende l'albero di Natale Domenica 2 dicembre la magia del Natale più ha acceso la città della fortuna Dove una piazza gremita ha assistito al grande spettacolo che ha dato il via alle festività natalizie Alle 18 in punto le luci di piazza 20 settembre si sono spente E una calda atmosfera ha avvolto migliaia di fanesi e turisti Che ieri pomeriggio hanno deciso di assistere all'inaugurazione ufficiale A fare da apripista ci ha pensato il cantautore Luca Vagnini Che accompagnato dai giovani del Corro Fra le Notte diretto dal maestro Caselli Ha presentato alla città Il Natale Sei Tu Il singolo scritto appositamente per questa edizione Terminato il piccolo concerto un emozionato sindaco seri ha augurato buone feste ai presenti E ha colto Adele la piccola proprietaria dell'abete normandiano Un albero che dopo aver festeggiato il Natale assieme alla famiglia Taos per tre generazioni Terminerà la sua lunga vita in piazza centrale Questa volta assieme alla grande famiglia della comunità fanese L'abbiamo chiamato il Natale più Bello è l'aggettivo giusto per quest'anno E quindi questa inaugurazione ne è la giusta partenza Poi un ringraziamento lo faccio veramente a tutte le persone che porto nel cuore Che in questi giorni hanno lavorato con me per realizzare tutto questo Non gli nomino ma loro sanno chi sono perché hanno lavorato tanto per realizzare questa manifestazione Dopo la fase istituzionale l'attrice Maria Cristina Nicolini Mi ha dato il via all'accensione recitando la leggenda dell'albero di Natale Un momento davvero toccante Sfociato in un crescendo di musica, suoni e luci Grazie ad oltre 30 teste rotanti Fino all'accensione delle decine di migliaia di led sul grande abete La magia dello spettacolo curato da Ultrasound Eventi È stata accompagnata dalle note di Follow Me di Andrea Bocelli Da alcune splendide fatte sui trampoli E da centinaia di palloncini che hanno contribuito a rendere ancora più suggestivo l'evento Fortemente voluto dagli organizzatori, il comune e la proloco Mi è piaciuto lo spettacolo? Sì, molto È la prima volta veramente che assisto allo spettacolo dell'accensione dell'albero Sì, mi è piaciuto molto Di dove siete? Bravi tutti, di Fano Di Fano? Sì Prima volta allo spettacolo? Sì Ma perché diciamo che non amo la confusione Però invece è stato tutto molto anche ben organizzato e molto bello Com'è stata questa inaugurazione ufficiale? Beh, è molto bella, ci è piaciuto un sacco E lei sorride, è fantastica Quindi vi è piaciuto? Sì, molto, molto Una città così piena di gente non si era mai vista Ma non era solo la piazza, veramente tutte le vie Ma la differenza è il calore che si è respirato La forte emozione dell'inaugurazione dell'accensione Ma l'atmosfera che si respirava in tutta la città Questa è la Fano che mi piace, questo è il Natale che ci piace Ma soprattutto è una città in festa Bella da vivere, bella da visitare E ogni giorno che seguirà ci saranno tanti motivi per venire a fare una passeggiata a Fano Orgoglioso, soddisfatto ma soprattutto emozionato E pochi metri più a nord Invece in un'altra piazza un po' più piccola e contenuta Ancora tanta gente per la pista di ghiaccio Buona la prima per il Natale più che sabato scorso ha presentato alla città Alcune delle grandi novità dell'edizione 2018 Nel pomeriggio infatti l'amministrazione comunale, la Proloquo e la Regione Marche Hanno inaugurato la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Veduti La struttura, lunga 24 metri e larga 14, è stata presa d'assalto da centinaia di famiglie e bambini Che non hanno voluto perdere l'occasione di provarla subito dopo il taglio del nastro Possiamo dire che non si divertono soltanto ai più piccoli? Ci divertiamo tutti, è bellissimo! Buone feste! Grazie altrettanto! È una cosa originale per cui è autentica e soprattutto è una curiosità nuova che Fano non ha mai avuto Per cui vedo tanto entusiasmo e è una cosa veramente simpatica Ciao! Tra scivoloni, risate e gioia si è arrivati fino alle 18 Quando l'attenzione si è spostata su un'altra novità La via dei ciliegi e dei bambini Via Garibaldi, trasformata ad hoc con addobbi, mercatini, la casetta di Babbo Natale E l'albero artistico del signore Stefano Seri È stata inaugurata con uno spettacolo condotto dall'attore fanese Marco Florio Nei panni del Mago del Natale Presentando alla città quelli che saranno i padroni di casa della via E che avranno il compito, tutti i fine settimana Di trasportare i bambini nel fantastico mondo del Natale L'elfo più e l'elfo meno E adesso, stasera, proprio veramente, è proprio bella Siete soddisfatti? Io da Fanese, sì Sì, sì, è nata qualche anno fa, qualche lustro Proprio una bellissima cosa Era da valorizzarla per quello che merita, ecco Era da valorizzare, è stata valorizzata Quindi vi piace? A noi piace, vabbè, fanesamente ci piace Dopo un rito magico fatto di balletti, pozioni e recitazione I due simpatici Elfi hanno pronunciato la formula e dato il via all'accensione del grande albero Che fino all'anno scorso spadroneggiava in piazza 20 Settembre E che quest'anno, invece, illuminerà via Garibaldi rendendola ancora più bella e suggestiva Per questa giornata zero dell'anno zero direi che la prova è stata superata E veramente questa via è molto bella, si presta molto a far giocare i bambini Quindi noi, insieme a Fanno Città dei Bambini, abbiamo organizzato questa idea per Natale Per allargare, diciamo, dalla piazza alle varie vie cittadine E questo è veramente un luogo fantastico Questa via la vorrete dedicare a qualcuno in particolare? E noi dedichiamo tutto questo evento del Natale, di questa via, a Filippo Tranquilli Che sicuramente sarebbe stato qui per noi Il telegiornale finisce qui Tra poco ci saranno le previsioni del tempo Quelle tenute dal colonnello Flavio Vento Previsioni del tempo, naturalmente, con il sorriso Anche se poi le previsioni comunque sono vere Poi, subito dopo, c'è la diretta con Primo Cittadino Che questa sera ospiterà il sindaco di Terre Rovedeschi Antonio Sebastianelli Come vedete, questi sono i numeri Per mettersi in contatto con la nostra redazione Potete già cominciare a chiamare Se volete andare in diretta, 861433 Oppure se volete inviarci un messaggio con Whatsapp 338 4968 250 Subito dopo, alle 22.30 Ci sarà invece la partita di Serie A2 di Pallavolo Persa dalla Golden Plast Potenza Picena Che ha giocato ieri in quel di Mondovi in Piemonte Grazie per essere stati con noi L'informazione torna domani mattina alle 7.30 in diretta Con Occhio e Giornali Arrivederci Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!